20 dicembre. Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Proverbi 8.17. Chi cerca trova. Il versetto di oggi ci fa capire che le braccia amorevoli di Dio sono sempre pronte ad accoglierci, come quelle del padre e del figlio al prodigo. L'unica condizione sta nell'amarlo e nel cercarlo. È bello sapere che il Signore è pronto a manifestarsi, a farsi trovare. Il problema è che molte persone non vogliono trovarlo. Non vogliono che interferisca nella loro vita. Non vogliono neppure rischiare di cambiare. Il fatto è che se non lo cerchiamo e non lo troviamo qui come nostro Salvatore, lo troveremo come nostro Giudice. Amico lettore, tu ami il Signore? Come dice la Bibbia? Cerchi il suo volto? Il Signore non gioca a nascondino. Anzi desidera intervenire nella nostra vita, manifestare il suo amore e la sua premura. Ma soltanto se lo amiamo e lo cerchiamo nel luogo giusto. Vale a dire nella sua parola. Si realizzerà questa bella promessa scritta nel Vangelo di Giovanni. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giovanni 14,21